Lì di destra dicono facciamolo, facciamolo, è da un sacco di anni che si è dimostrato che grazie alla vostra gestione non si può fare, il tema è che tipo di progetto si realizza, che tipo di impatto sui temi della mobilità porta con sé, quindi che tipo di progetto si costruisce in relazione al bisogno della popolazione di queste terre, di queste aree, perché se tu ti fai condizionare solo dal punto di vista privato il risultato è questo, che racconti, che farai l'ospedale che non si fa e invece c'è un sacco di gente in queste comunità che ha giustamente bisogno di interventi in campo medico, sanitario, più adeguato al bisogno di cura e questo tema io credo che lo dobbiamo recuperare con grande energia e decisione.